Ciao a tutti e benvenuti e ben ritrovati alla 3D Graph. Siamo a Tiene presso la ditta Ares e abbiamo praticamente fatto un piccolo restyling alle loro vetrine. Questa è una pellicola stampata in digitale, laminata con protezione UV quindi può restare al sole. Questa è quella che abbiamo rifatta, questa è una parte vecchia, un'altra parte rifatta, centro assistenza autorizzato miele e poi l'altra parte rifatta. Io dico sempre è difficile vedere la qualità della stampa tramite un video però venite magari a vederlo. Se passate fermatevi, vedete che l'effetto è incredibile, i prodotti sembrano proprio che escano dai vetri. Un saluto a tutto lo staff Ares di Tiene e di Schio, dalla 3D Graph è tutto, alla prossima. Ciao ciao!